Esattamente 40 anni fa in Italia è accaduto che un aereo di linea con 81 persone a bordo venisse abbattuto senza che nessuna autorità desse alcun tipo di spiegazione. Era il 27 giugno del 1980. Il 19 Italia era decollato da Bologna e diretto a Palermo. Aveva da poco annunciato il suo imminente arrivo a Punta Raisi quando improvvisamente sparisce dai radar. I resti dell'aereo vengono recuperati soltanto il giorno successivo in mare, a largo dell'isola di Ustica. La strage di Ustica oggi lo sappiamo è una strage internazionale. Il lungo e tortuoso iter giudiziario ha infatti accertato. L'aereo è stato abbattuto all'interno di operazioni militari, il cui scopo, la cui natura non sono mai stati chiariti, ma che sicuramente hanno visto la partecipazione di paesi stranieri. E come è noto, i tentativi di scoprire le cause della strage, le indagini, hanno incontrato innumerevoli difficoltà e ostacoli anche all'interno delle istituzioni italiane. È chiaro che c'è un'intenzionalità precisa che ha impedito e che tuttora impedisce di raggiungere una verità completa e soddisfacente su questa vicenda. Di fronte a queste opacità ci corre in soccorso la storia. Gli strumenti e i metodi della ricerca storica ci permettono infatti di comprendere le ragioni di quello che è successo nei limiti del possibile e anche di fondare ipotesi di plausibilità che trovano riscontro nei documenti. Nel mio libro, che esce in occasione del quarantennale della strage, mi sono posta proprio questo obiettivo. Innanzitutto fare ordine fra le carte e presentare ai lettori una ricostruzione quanto più accurata possibile dei fatti, di quello che è accaduto. Ho poi tentato di contestualizzare questi fatti nella loro cornice storica internazionale, cercando di capire quali fossero nel giugno del 1980, siamo in un clima di pieno ritorno della guerra fredda, gli elementi di crisi e di tensione che attraversavano l'area del Mediterraneo, con un focus particolare sul ruolo svolto dalla Libia, che è un paese fortemente sospettato di essere implicato nei fatti. Infine ho voluto raccontare anche però tutto ciò che è accaduto dopo, negli anni successivi, dai tentativi di insabbiamento del caso fino alla campagna per la verità suustica. Se infatti oggi disponiamo di grandi parti di verità su questa vicenda, è grazie agli sforzi che sono stati compiuti per raggiungere questa verità e che hanno visto un ruolo importante di diversi soggetti dell'opinione pubblica italiana. Penso al giornalismo d'inchiesta e penso anche ai familiari delle vittime della strage, che hanno saputo esercitare le giuste pressioni sulle istituzioni. Ustica quindi è una storia che purtroppo testimonia quanto può arrivare a costare la tutela della ragione di Stato, ma è anche una storia che dimostra quanto può essere importante l'impegno civile dei singoli di fronte ai grandi eventi traumatici della storia.